Salve a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi andremo a bruciare un po' di neve finta al mio albero di Natale. Allora, prima abbiamo questa qui piccolina, che sono 125 ml, che ce n'è un po' rimasta dall'anno scorso. E poi ho acquistato questo qui più grande, di 600 ml. Ora vi mostro il mio albero, e poi andiamo a spruzzarlo insieme. Eccolo qui, c'è già qualche regalino, andiamo più da vicino, o rispetto, comunque alle luci in viola. Ora magari ve lo attacco un attimo, se riesco, aspettate. Allora, l'ho attaccato, c'è qualche regalino? Già tanti, direi, ed ecco qui. Ora andremo a mettere la neve finta insieme. Allora, ora andremo a mettere la neve finta insieme. Allora, ora andremo a mettere la neve finta insieme. Allora, ora andremo a mettere la neve finta insieme. Sì 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 Sì